Le opere di misericordia sono al centro della nostra fede in Dio, riscopriamole e incarniamole anche senza compiere grandi sforzi, ma semplicemente vivendo dei piccoli gesti, che sono pieni di valore agli occhi del Signore e sulla base dei quali saremo giudicati. Così Papa Francesco all'udienza generale in piazza San Pietro, gremita di fedeli, nella quale ha ricordato come Gesù spiegasse ai discepoli che ogni volta che diamo da mangiare ad un affamato, che vestiamo un ammalato o un carcerato, è come se lo facessimo a lui. La Chiesa ha chiamato questi gesti opere di misericordia corporale perché soccorrono le persone nelle loro necessità materiali, ma sono altrettanto importanti delle opere di misericordia spirituale, che come annunciato Papa Francesco verranno approfondite nelle prossime catechesi. Le opere di misericordia risvegliano in noi l'esigenza e la capacità di rendere viva e operosa la fede e la carità. Sono convinto che attraverso questi semplici gesti quotidiani possiamo compiere una vera rivoluzione che è stata in passato. Se ognuno di noi ogni giorno ne fa una di queste, questa sarà una rivoluzione nel mondo, ma tutti e ognuno di noi. Quanti santi sono ancora oggi ricordati non per le grandi opere che hanno realizzato, ma per la carità che hanno saputo trasmettere. Dopo la catechesi, Papa Francesco ha rivolto un pensiero alla giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali che ricorre il 13 ottobre e dedicata quest'anno alla riduzione della mortalità. Traguardo raggiungibile ha detto, unendo gli sforzi per la tutela della nostra casa comune e promuovendo una cultura della prevenzione.